Ciao a tutti, sono Luca Zulu. Le persone con disabilità hanno bisogno di cure specifiche, di amore dato con dignità e hanno soprattutto dei diritti come il diritto allo studio e il diritto al lavoro. Collegatevi al sito rsdsorriso.org e contribuite anche voi alla realizzazione dell'unica residenza per persone disabili in Italia. È un gesto d'amore ma è soprattutto un diritto civile e sociale. Ci conto.